La sensualità, l'ironia, la mimica, il canto, la recitazione, tutto questo è Crazy Burlesque, lo spettacolo comico e umoristico di Candy Bloom portato in scena al teatro palcoscenico di Napoli dal gruppo artistico Burlesque Art Napoli. Lo spettacolo è un inno alle donne di cui ognuna ha qualcosa da dire, da mostrare, da denunciare, da condividere a prescindere dall'età, dallo stato sociale, dall'aspetto fisico e lo fa attraverso performance artistiche significative o sognanti, seguendo ognuna il proprio istinto artistico, comico e creativo. Sono le donne quelle che amano vedere il Burlesque, forse per le piume, i lustrini, i merlette, le frange, tutte queste cose bellissime che sono tipicamente femminili, ma forse anche perché le donne hanno quella sensibilità per capire, per vedere, che non è una seduzione reale, ma è la spettacolarizzazione della seduzione. Abbattendo la quarta parete il pubblico è stato travolto da un susseguirsi di emozioni, colori e suoni, partecipando attivamente allo spettacolo. In primavera, poi, in città nascerà addirittura un festival dedicato al Burlesque, come spiega Francesca Filardo ai nostri microfoni. Stiamo organizzando noi di Burlesque Art Napoli il Neapolis Burlesque Queen, che è un festival internazionale a quale ci si può iscrivere, sia per il contest proprio specificamente di Burlesque, ma volevamo dare l'opportunità a tutti gli amanti del vintage di partecipare. Di conseguenza, abbiamo pensato di fare il giorno dopo del contest anche una sfilata vintage alla quale possono iscriversi proprio tutti, basta che abbiano una biglie vintage e parteciperanno anche in quel caso a una sfilata dove comunque alla fine ci saranno dei premi.